Se doveste vendere le vostre proprietà, c'è un ottimo e fidato cliente pronto a soddisfare tutte le vostre richieste e incontanti. Perché non pensate a portare l'acqua nelle case invece di prendervi casa mia? Poteglielo capire voi a vostra madre. Rinaldo, Orlando e Angelico, un trio perfetto, tutti fatti a mano. Elisir d'amore e portafortuna. Ilisir d'amore e portafortuna.